Non sono passate inosservate le transenne installate nei giorni scorsi all'anfiteatro Rastat e nell'area verde a fianco della passeggiata di Sassonia. Questa volta i lavori del cosiddetto waterfront di Fano stanno per iniziare almeno la prima parte del progetto che prevede la riqualificazione del lungomare fanese. Che valorizzerà al meglio questo spazio ma che sicuramente metterà più in connessione sia le persone che anche la città in quanto si lega perfettamente anche con l'intervento che partirà proprio il 2 di novembre su Viale Battisti. In questo primo momento faremo un rilievo di tutti quelli che sono i sottoservizi che naturalmente interferiscono poi con quello che è l'area di cantiere. E contestualmente a questo passeremo poi alla riconversione dell'anfiteatro Rastat che è un ridisegnare diciamo un po' una struttura che vuole sia valorizzare lo spazio ma anche migliorare sicuramente quello che è l'aspetto delle sedute e la vista mare. Quindi inizialmente andremo a fare delle piccole demolizioni di quella che è la pavimentazione per capire lo stato di degrado della pavimentazione stessa e quindi intercettare un po' definire quello che è il tipo di lavorazione più appropriato. Contestualmente a questo lavoreremo anche sul controviale dove attualmente l'edicola che dovrà essere spostata e dovrà essere realizzata una nuova pavimentazione ma verrà anche inserita una pista ciclabile. Quello spazio lo ricordiamo cambierà completamente la sua destinazione d'uso in quanto sarà uno spazio a piazza, uno spazio completamente connesso alla città ma anche molto vivibile. Inoltre, aggiunto Brunori, durante lo svolgimento dei lavori non verranno interdetti gli attuali parcheggi nella zona dell'hotel Cristallo, questo per evitare i disagi alle attività e ai residenti. In contemporanea, proseguito poi l'assessore, alvia i lavori anche su Viale Battisti. Ricordiamo che il senso unico di marcia per tutto il periodo di lavorazione sarà lato città-mare ad eccezione di quello che è il tratto sopra il cavalcavia dove invece si potrà risalire dagli orti sino a fine dicembre perché il cantiere non sarà solo questo ma appunto si congiungerà a quello di Viale Battisti. In questa settimana, sino a metà della prossima, sarà interdetto anche il passaggio sulla coda di via Garibaldi in prossimità di Piazzale Rosselli perché stanno appunto posando la pavimentazione a Selci. Soddisfazione da parte del primo cittadino Massimo Seri che ha ricordato i diversi interventi di riqualificazione in città. Ci siamo, sono partiti i lavori all'anfiteatro Rastet, i lavori di riqualificazione del lungomare che dopo l'inizio del lavoro di Viale Battisti si uniscono a questo nuovo spazio, che si uniscono a quelli già realizzati come la Darsena Borghese ma che non è ultimato e che proseguirà a breve con la demolizione dell'ex casellino. Quindi ci siamo a tutti gli effetti, questa nuova terrazza sul mare che sarà un luogo bello, vivibile, dove si creeranno grandi occasioni ma soprattutto un biglietto da visita per la nostra città che la renderà molto più bella, accattivante e attraente. Con un centro storico che dialoga e si lega con il lungomare è qualcosa di straordinario che pochi possono vantare di avere e noi ce l'abbiamo e giustamente lo valorizziamo. Grazie.